Eccoci nella via del ritorno dopo la visita. E allora? Come è andata? È stata bene, sono stati molto gentili, professionali, anche se un'ora di visita. Anche di più? Anche di più. E allora queste date? Diventavano come? Enormi. Sì, abbiamo fatto la visita, è andata molto bene, sono stati molto gentili, il dottore mi piace, simpatico. E l'advisor? Ancora meglio. La Roby. Eh sì. Ecco, diventeranno così, però non... Eh, sta filmando le tue tette. Ah, grazie. Però adesso c'è un'imbuttitura da paura, poi non ti servirà più. Eh sì. Addio Pisciolini. Terza piena allora? Terza più? Terza più. Seconda terza? Chi lo sa. Quando ho pensato di decidere? Beh, quasi quasi ho già deciso, però aspettiamo un po' di giorni. Ma sei convinta ancora di più dopo aver parlato col medico? Sì, sì, sempre di più. Poi ho fatto le prove con le tettone. Quindi ancora di più. Sì, a giorni deciderò. E il taglio, la cicatrice, dove la faremo? La cicatrice, mi hanno detto che si può fare attorno al capezzolo o sotto. E comunque si vedrà molto poco, per cui penso di farla attorno al capezzolo. Poi sentirò il dottore cosa mi consiglierà. Sì, beh, ha detto che non si vede entrambi i casi. Non si vede nessuna delle case, esatto. Quella pratesi a goccia, figata la pratesi a goccia. Sì, quelle tonde secondo me fanno troppo. Troppo, anche secondo me. Poi avendone così poche mi ha consigliato quelle a goccia. Che è quello che vuoi tu a... Io seguirò il consiglio. Non potevo. Allora. Alla guida non c'è. Questi dossi così imprevisti. Non ci saranno durante l'operazione. Comunque sono molto soddisfatta. Questa clinica mi piace. E sì. Sì, era molto accogliente. Anche lei, molto simpatica. Sì, mi è piaciuta molto. Quindi è deciso? La facciamo qui? La clinica sì, voto 10. Adesso decidiamo. Però il 90% sì.